Umberto Castaldi è un primario chirurgo, bravissimo nel suo lavoro, serio, però nel privato è pieno di difficoltà, è pieno di disastri, poveraccio, perché non è riuscito a costruirsi una vita sentimentale, vera, una famiglia, ha una figlia con la quale è spesso in contrasto, la moglie si è lasciata con la moglie, ha avuto un incidente di percorso di una notte forse con un'infermiera e da lì è nata questa figlia, è figlia che ogni tanto viene a Roma perché partecipa a spettacoli televisivi, è una bellissima ragazza di Castellammare di Stabia, siamo due mondi completamente diversi, però lui non riesce a costruirsi una vita, ha dato tutto al lavoro, da tutto sul lavoro, è bravissimo, ma è un disastro nel privato e forse vive la sua parte, quella extra lavoro, la vive con la sua echipe, questa è la tragedia. Non ha molti amici tra medici, queste echipe alla fine sono tutti soli nel privato e alla fine si ritrovano fuori dell'ospedale e si ritrovano a mangiare, a condividere ancora cose, è chiaro che facendo stare le persone così tanto insieme poi alla fine qualche screzio, qualche insofferenza esce fuori perché non è una cosa tanto normale questa.